Sorgenti abruzzesi dell'acqua a rischio secondo il forum H2O. Quali sono questi rischi e perché soprattutto? Sì, questi guai non vengono mai da soli. Mentre stiamo portando avanti una nostra partecipazione alla manifestazione dell'11 sabato 11 a Teramo contro gli esperimenti pericolosi che si vogliono fare dentro il Gran Sasso, veniamo a sapere che è stata richiesta l'ampliamento della cava vicino alle sorgenti di Popoli e di San Calisto di ben 20 ettari. È una cosa folle e noi speriamo che le autorità intervengano perché questa è una cosa veramente obbrobliosa, perché attacca una fonte idrica molto importante. Ricordiamo che le sorgenti di Pescara sono lì, non sono in un'altra parte. Per il Gran Sasso, dove l'acqua viene messa in dubbio della possibilità che possa continuare ad assetare 700.000 persone in Abruzzo con un esperimento nucleare che vuole essere fatto sotto il Gran Sasso, che si chiama SOX, mentre il testo unico dell'ambiente dice nell'articolo 94 che non si possono ottenere materiali radioattivi, utilizzare materiali radioattivi a 200 metri dalle fonti idriche più importanti. Quindi già basterebbe questo per dire che non si può. Invece veniamo a sapere che c'è stata una prova di trasporto di materiali radioattivi, che ci dovrebbe essere un trasporto radioattivo, cioè veniamo a sapere mano a mano tutte quante le cose e siamo noi cittadini a tirare fuori le notizie per smentire quello che dicono gli enti pubblici. Manchiamo di totale trasparenza. L'ultima cosa, la regione aveva detto che non sapeva niente di tutto ciò e invece non è vero assolutamente perché a luglio 2015 hanno dato l'autorizzazione interpellando tra l'altro solo l'asile dell'Aquila senza interpellare l'asile di Teramo, Isola del Gran Sasso e a Teramo. E quindi insomma vediamo che veramente queste fonti idriche importantissime nella nostra regione vengono continuamente messe in pericolo. Sappiamo che i comuni della provincia di Teramo stanno alzando finalmente la voce in maniera chiara e precisa. lo devono fare tutti gli abruzzesi, tutti gli amministratori e la regione deve battere un colpo e non può continuare ad avere una politica non trasparente.